I movimenti spontanei e popolari, quelli che già abbiamo avuto dei rapporti, abbiamo mandato loro un protocollo d'intesa, hanno, diciamo, tra virgolette, accettato un copione che non abbiamo scritto noi, l'ha scritto il popolo. Allora io volevo tutti i rappresentanti dei movimenti spontanei e popolari e delle associazioni di categorie di venire dall'altra parte.